Tenetevi pronti, tenetevi saldi. Stiamo arrivando nelle vostre case con un programma divertentissimo. Che ho il camera di ritorno, con Angelo Di Gennaro, Antonio Pisano e la simpaticissima lì da piccolo. Non ti conosci che si frate a me, se ho pane e poco mi dai mi dà, non ci vuostante pa' feste, caso cucino con il sole. Ditevi caldo totò, se va ieri è pure mo', sento addore pane e guotte, mio tuo cuore in mezzo e va. Vieni appresso a me, ah, vieni appresso a me, ah, sento sta canzone, vinta all'aria, stiamo poche te...